il primo giorno è stato fatto la piccola posso fare lì? sì io ho fatto il primo giorno io ho fatto il primo giorno da 80 a 80 ci sta il primo giorno è questo il primo giorno è questo la pianta no abbiamo fatto la pietra la giocca è la pianta ecc ok terzo i i i i i i i i i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 E' iniziale. 16 piani 2 piani e via liberare 3 piani 4 piani 4 piani 4 piani 16 piani 16 piani 14 piani 18 piani 46 bravo angelo Tutto rischio, due bianche. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 un po' altro un po' altro un po' altro 50 euro di gatti? Sì, via! Se io... Vabbè, 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 c'è la rocca a piedi. Psst! Vabbè, vabbè, vabbè? Vabbè, vabbè? Vabbè, vabbè, vabbè? Vabbè, 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 vabbè? Sì, avete pronto? Bruvissima! Buon pretending, Ward. Ci volevi rossa, non ce la prendiamo. Sì, ti dico! Grazie, è una vicenza. buona 7 e 2 ma il periodo non va a rompire ma non ce lo stai tenendo oh 8 che devo fare le case delle tue e la tutte le 180 ha fatto ma lei si vuole il giro più duro qua andate qua 38 ma non lo scrive voi dovreste fare 208 punti se io faccio se io faccio cadere tutti i guardi e faccio con le bambini vai capote è bazzica capito è forte è forte ma ti ci fai ci fai non ti credi i uomo se i i i mi l'uomo la 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 l'uomo e allora è pericoloso è pericoloso è buona è buona non sapesse da l'aria tocca a me ma c'è questa cazzo di pausa non c'è sì è buona 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 la lago non è buona è buona Stai a giocare stai Sei tu che vuoi Rispetto per l'anzianità Grande 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 16 rossi. C'era da coprire, mi ha scappato lì. Questa è difficile per me. No, ti ho voluto giustificarti per tutte le angherite per me. Io le lascia la mia giù e la tua volta qua. Ok. Buongiorno. 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 È finita la partita. Ma ci tocca? È il G, no? Sì, l'ultima. Ma mezza la partita. Lei si importa. Buongiorno.